Credo di dover ripetere un appello ai nostri concittadini alla vaccinazione per chi non ha avuto neanche la prima dose, ma anche per chi deve fare il richiamo, se vogliamo stare tranquilli. Dobbiamo muoverci perché, come è noto, già la variante Delta ha complicato i problemi, perché è una variante che ha molta più aggressività. Se continuiamo a perdere tempo rischiamo di dover fare i conti con altre varianti che finiranno per allungare i tempi per la immunizzazione della nostra popolazione. Credo di dover dire che noi, nonostante questo rallentamento delle adesioni alla campagna di vaccinazione, registriamo oggi in Campania una tenuta soddisfacente. Non registriamo ad oggi incrementi significativi nei ricoveri ordinari e manteniamo un'occupazione di posti di terapia intensiva molto bassa, 2,6-2,8% di occupazione delle terapie intensive. Se manteniamo questi dati credo che possiamo guardare con serenità al futuro, ma questo non ci libera dall'obbligo, a mio parere, di vaccinarci tutti. Parte l'anno scolastico a metà settembre, anche qui abbiamo alcuni elementi di grande tranquillità e di grande soddisfazione per noi, ma dobbiamo fare ancora uno sforzo in più. Vi ricordo i dati che riguardano la popolazione studentesca, mentre per i dipendenti della scuola, personale docente e non docente, abbiamo una situazione di assoluta tranquillità. Per quanto riguarda la fascia di studenti 12-19 anni, la situazione della Campania è questa. I cittadini campani residenti, quindi non quelli che hanno aderito alla vaccinazione, ma i residenti, cioè ragazze e ragazzi dai 12 anni in su, sono 509.000 in Campania, di 12-19 anni, rispetto ai residenti 12-19 anni, noi abbiamo una percentuale di prime dosi del 60%, cioè hanno avuto la prima dose 307.000 ragazze e ragazzi dai 12 ai 19 anni, 60%. Per quanto riguarda la seconda dose, hanno avuto la seconda dose il 40% dei ragazzi di questa fascia di età.